... Vai Paolo, abbiamo concordato tre domande. Vai pure. Sì, vai pure. Buonasera. Fonseca è una serata molto grave dopo il derby. Si è rotta la Roma, secondo lei? No. E questa partita ha dimostrato che non è così. È vero che non abbiamo iniziato bene la partita. Le due volte che loro sono andati alla nostra porta hanno fatto gol, ma dopo la squadra ha reagito bene e ha creato diverse occasioni, principalmente nel secondo tempo, per in 90 minuti avere oltre il risultato. Penso che dopo la sconfitta con l'Alasio, dopo di iniziare la partita come abbiamo iniziato, la squadra ha dimostrato voglia di cambiare questo momento. E penso che abbiamo creato situazioni per, in 90 minuti, avere altri risultati. due gol in dieci minuti al quinto e al quindicesimo ricordano un po' l'andamento della partita con l'Alasio. Questi approcci alla partita così distratti, superficiali, sono un segnale pericoloso? È un momento della squadra e la sconfitta con l'Alasio che è stata pesante e che mi sembra che tutto succeda in questo momento. Ma come ho detto, la squadra ha reagito bene, ha reagito con voglia di cambiare questo. Penso che onestamente abbiamo meritato di finire i 90 minuti con altri risultati. Il Milan ha comprato due giocatori in questo mercato invernale, ne sta per prendere un altro. Lei si aspetta in questo momento così difficile l'aiuto della società sul mercato? Siamo lavorando tutti insieme per cercare le meille soluzioni per aiutare la squadra. Poi se posso Luca un'altra sui cambi, se veramente come sembra è stato fatto un errore sui cambi. Volevo un suo commento Fonseca. Se è stato un problema che io non lo so onestamente, è un problema che parleremo internamente sul problema. Grazie. Grazie. Grazie Paolo. Grazie. Grazie.